Questa è la storia di un'epoca lontana, succeduta alla scomparsa dei grandi eroi e alla caduta del tiranno re barogno del verde abete. Un'epoca plasmata dalle spade dei lordi ribelli delle nove casate e dal sangue di coloro che morirono per la libertà. Ma la pace e la prosperità non erano destinate a durare a lungo. Nell'ombra di un'antica profezia attendeva la malvagia essenza della captiveria, una magia oscura e potente, antica come il male sulla terra. Questa è la storia di una nuova era, l'era dei nuovi eroi del Firadro, l'era della spada e della torta. Dunque, hai fatto fare la torta al tuo figlio tutto blocco sotto e non riuscivi a tagliarla? Molto male! Sì! Sì! La spada che hai fatto forgiare per tagliare la torta e che ci è rimasta incastrata è il segno che la profezia si sta avverando. Devi partire, Roccio! Raggiungi Rocciavento e lì troverai qualcuno che saprà come aiutarti a trovare l'eletto che riuscirà ad estrarre la cioccolana! Ah! Signor Roccio, lei sta cercando una persona molto pericolosa e qui ci sono troppi orecchi inscreti. Una nuova avventura è inizio! Preparatevi per captiveria! Liberia! Grazie a tutti